L'Istituto di Fisica Nucleare, negli elaborati progettuali, non ha fatto quello che tutti i progettisti dovrebbero fare, chiarire com'è lo stato di fatto, dove sono eventuali i problemi e quali sono anche i vincoli da affrontare. La presenza di captazioni che danno l'acqua a 700.000 persone se la sono dimenticata. I ministeri non si sono accorti che avrebbero potuto applicare e non l'hanno potuto fare un divieto di legge che esiste perché entro 200 metri dei punti di captazione idropodabili non sono permessi gli stoccaggi materiale di sostanze radioattive o pericolose. Ed è così che secondo il gruppo di associazioni ambientaliste riunito sotto il nome di Mobilitazione per l'acqua sono state concesse le autorizzazioni per la realizzazione nei laboratori INFN del Gran Sasso dell'esperimento SOX. La ricerca prevede l'arrivo in Abruzzo di una sorgente radioattiva dalla Russia, il Cerio 144, potentissima racchiusa in un contenitore di acciaio di 3 mm, a sua volta chiuso all'interno di un involucro di tungsteno, spesso 19 cm. La sorgente radioattiva, secondo le carte nelle mani della Mobilitazione per l'acqua, arrivate grazie ad un accesso agli atti presso il Ministero dell'Ambiente e presso quello dello sviluppo economico, avrebbe il peso di 50 grammi e dovrebbe arrivare racchiusa in questo guscio protettivo che però non è sigillato. A proteggere il Cerio 144 dall'esterno c'è un coperchio di acciaio tenuto in posizione da 20 viti. La perplessità degli ambientalisti riguarda una possibile manomissione dell'involucro protettivo, oppure, peggio ancora, di un incidente all'interno dei laboratori dovuto ad errore umano o a un possibile sisma vista la zona altamente soggetta a terremoti. Cosa accadrebbe in questo caso, date anche la presenza di migliaia di tonnellate di trimetilbenzene e acquaraggia per l'esperimento borexino? Ecco, questi scenari di rischio non sono stati neanche analizzati. Loro escludono, perché uno dovrebbe dirci, perché una persona magari anche interna possa, che ne so, perdere la testa e agire sul cilindro aprendo lo schermo che ci salva da eventuali radiazioni. Però se lo apri non ci salva più. Quindi poi ci sta il rischio appunto sismico, che è stato sottovalutato, è stato solo considerato lo scuotimento e non la dislocazione, per esempio, cioè la formazione di un gradino con lo spostamento proprio della faglia. E quello, da un punto di vista ingegneristico, non è gestibile sostanzialmente. Quindi in quel caso ci sarebbe un enorme incidente coinvolgendo tutti gli apparati. Quindi in quel caso cosa accade? Neanche quello è stato considerato. Non è stata fatta la valutazione di incidenza ambientale. Perché? Perché non hanno segnalato che un sito di interesse comunitario è parco nazionale. Ecco un'altra cosa che non hanno segnalato. Non hanno segnalato che quello è un impianto a rischio di incidente rilevante. Che cosa avete intenzione di fare adesso con le carte alla mano? Noi chiederemo ai ministeri nei prossimi giorni il ritiro in autotutela delle autorizzazioni concesse in quanto prive, concesse senza avere le informazioni necessarie.